Quattro personalità di Antonella. Antonella con un post ricorda l'avventura del grande fratello Vip. 365 giorni fa entrai in quella casa. In realtà sembra essere passato meno tempo. Lo rifarei altre mille volte. Nonostante tutto, sapete perché? Perché mi ha cambiato la vita. Mi ha fatto crescere caratterialmente e lavorativamente. Ho imparato a stare da sola, a dire la mia nonostante avessi conto tutti, a fregarmene del giudizio della gente. Aiutare le persone in difficoltà ad amare, perdonare e soffrire per amore, ad aiutare un'amica e riportarla alla vittoria, ad ascoltare consigli per migliorare, a prendere il meglio dagli altri e soffermarmi di più sui problemi degli altri. E soprattutto, finalmente, mi avete conosciuta in tutte le mie sfaccettature e mi avete apprezzato in tutte le quattro mie personalità. Tra poche settimane vi darò una bella notizia. Intanto, grazie a chi ha sempre creduto in me.